La Commissione Grandi Rischi ha lasciato intendere che a breve si possa passare dall'allerta gialla a quella arancione. Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumici, infatti, ha dichiarato che l'attività vulcanica nei campi flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Il Ministro ha convocato Manfredi, il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, e quello di Pozzuoli, Luigi Manzoni, per il giorno 7 novembre. Si tratta dei tre primi cittadini che, in caso di passaggio alla zona arancione, dovrebbero gestire un'emergenza che investirebbe in pieno mezzo milione di persone. In arancione bisognerebbe non evacuare, ma allertare mezzo milione di cittadini e trovare subito un nuovo riparo, a chi è ricoverato negli ospedali, blindare i monumenti, verificare le scuole e tant'altro. Di qui la prudenza di Manfredi, che invita a decodificare bene quanto affermano i tecnici. Nessuna indicazione che spinga al passaggio all'arancione, anzi, dal bollettino dell'osservatorio versuviano emerge che nelle ultime due settimane alcuni fenomeni stanno rallentando, non stanno accelerando. È un problema puramente interpretativo, quindi secondo me, a volte, io lo dico, questa volta da scienziato, da tecnico, a volte la discussione scientifica travalica la gestione concreta della comunità. Musumeci illustrerà ai tre sindaci quanto emergerà dagli approfondimenti che la Commissione Grandi Rischi, braccio operativo della protezione civile, sta facendo in queste ore. Secondo fonti istituzionali, l'organismo ministeriale di qui ai prossimi quattro giorni si riunirà almeno due volte. È la sensazione che dalla Commissione possa uscire un'ulteriore spinta per passare alla zona arancione e abbastanza forte.